Gropina, comune di Loro Ciuffena, provincia di Arezzo, Pieve di San Pietro, è considerato uno degli esempi più alti dell'architettura romanica in Toscana. La tradizione popolare attribuisce la fondazione alla duchessa di Toscana, Matilde di Canossa, quindi una chiesa antichissima. La chiesa attuale si presenta con una semplice facciata ornata da una piccola bifora, mentre più decorato risulta l'abside, dove compare uno splendido motivo di arcate cieche spartita dalle sene. L'interno presenta uno splendido e severo impianto basilicale concluso da una sola abside semicircolare, un'abside che anche all'interno è assolutamente splendida, come gioca con la luce e per le sue forme. Così come è splendido, mi è parso il pulpito anch'esso romanico. Va poi segnalato che i capitelli sono particolarmente ricchi, una vera e propria enciclopedia sacra con scene dell'Antico e del Nuovo Testamento. «Fema 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 »»»» E rappresenta uno masqué, unaο生活ooooaa U suggestion dato che i cap lunghi Saroma. Noi, noi, noi. Noi, noi, noi.